hello amigas e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qua su inside guardate ragazzi mi sono veramente fermata in questo giorno diciamo perché volevo continuare letteralmente avevo veramente una voglia di continuare ho visto che comunque la prima impressione siamo il primo episodio di questo gioco mi è veramente piaciuto tantissimo quindi ho detto ok continuiamo perché mi interessa moltissimo anche a me qui l'ultima volta insomma abbiamo fatto un po di casino per capire però ok quei pulcini ci hanno anche aiutato quindi direi di continuare e ho l'ansia tremenda del mondo ok siamo arrivati sul tetto di questa fattoria bella è nuova perché soprattutto è molto nuova mi sa che dovremmo cascare su quei porchellini no porcelli perché meglio vai che schifo yehea ok quindi mi sa che dobbiamo spostare queste cose però vediamo un attimo indietro se c'è qualcosa ok quindi mi sa che ecco appunto ok l'avevo intuito immediatamente appena ho visto appena siamo scesi sotto ok 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 un altro maialino bello e buono cosa chi c'è perché era lenta ah no perché c'è il fango che cos'è c'è del fango che è oh no che schifo oddio oddio raga il fango è un po' troppo alto direi oh ah ok no se non pensavo si potesse arrampicare ok oddio guardate dove gli è arrivato il fango oh mio dio che schifo ho capito che qui c'erano dei porcellini in più sta anche piovendo però oh ok così lasceremo tracce però oddio oddio che paura ma smetti oddio sei pazzo porcellino no e non fare troppa ho paura che si fa troppo casino aio oddio oddio che merda è ah questa cosa gli faceva del male ho capito ok si ma in tutto ciò che cosa devo fare devo sicuramente trasportare qualcosa ah perché è un bermicello aveva un bermicello nel sedere cioè scusate non so se ho capito bene ok cioè questo coso ma io forse vieni qui sei tranquillo porcellino un attimo di pazienza solo un minutino oddio che cavolo è ah ma sono quei tizi oddio oddio no raga è troppo figo ora ce la fa il berm2 ma perché sta roba ok che cosa strana raga è stata una cosa stranissima non ci ho capito niente ah no pensavo che mi potevo agganciare lì niente ok oddio che cosa strana ok vedo che c'è del sole che cos'è oh ok ha smesso di piovere questo mi consola anche un po' di più quei tizi di certo non sappiamo cosa succede dove sono se li abbiamo seminati o comunque in futuro li potremo rincontrare questo non si sa però mi supporta la cosa che sta diventando giorno che cavolo è oddio ho fatto molta paura a quelle persone cos'è che è successo che sta succedendo ma sono persone vere o è come quello di prima che sono tipo dei fantocci non lo so questo sicuramente lo dobbiamo eh o tirare o ok quella corda è salita e non è servita a niente quindi adesso sceglia ah così ok ah e adesso ce la vediamo ok vero eh si non capisco quei signori che c'è le persone ok sentiamo un attimo così ok ah ok che cos'è ho altri pulcini bene come ah no non stiamo creando pulcini infatti ho detto oh bene ci aiuteranno invece non è vero niente sono uccelli ok noi adesso abbiamo superato quei signori quelle persone ma che cioè a quale scopo quelle persone erano lì vorrei sapere più che altro voglio un attimo vedere qui che ah ok intatti vabbè vedremo dopo cosa ci serve vediamo di qua oddio ah ecco ho fatto bene ho fatto bene no invece non è vero ok ah no ok questo è il massimo ok pensavo di aver fatto bene per un momento ho pensato yeee ho fatto bene apri la botta invece no ok no dai mamma non riesco a saltare ok oh bene quindi una cassa ah ok lì c'è un buco sicuramente bene oddio ma sono morta e sì ho capito ma che cosa è successo vi potete spiegare allora ok e adesso con cautela scendiamo ok non avevo capito cioè what dovremmo pensare che sarebbe cascato tutto ok anche se tutto quello che stiamo facendo non sto capendo bene cosa sia perché rimango sempre col fatto che c'entrano quelle persone che cosa è che cosa sono soprattutto io ho aperto quella grata ok ma qui c'è qualcosa di utile ok ok però mi serve molto cioè non posso andare ok aspetta non c'è qualcos'altro ah ma aspettate raga qua c'è un coso eh appunto non ci avevo fatto caso che che significano quelle cose questa bianca no no non volevo staccarmi ah no 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 ho capito allora facciamo una cosa io ora ecco li faccio andare qui mi stacco chiudo questa porta almeno non crea problemi e poi non lo so però qualcosa succederà cosa? ok però no aspettate visto che adesso abbiamo aperto una porta sicuramente dobbiamo andare lì vorrei vedere quella grata dove ci porta cos'è? cos'è? oddio caspiterina è non so se abbiamo creato problemi a fare questa cosa o meno forse forse abbiamo forse abbiamo staccato l'elettricità ah no no ah beh non lo so comunque andiamo avanti ok poi c'erano tipo questi non so se è qualcuno che sta camminando sopra di noi o siamo noi che è il cuore non lo so che batti qualcosa del genere ah no ok diciamo che era vuoto ok siamo su cioè siamo palesemente sopra un edificio ok perfetto oh guarda ragazzi sono dei tizi vedete che guardate là sotto c'è qualcuno sono delle persone ipnotizzate magari può darsi può darsi oh ragazzi forse ha tutto molto più senso forse quelle persone che abbiamo incontrato che ci volevano ammazzare forse ci volevano ipnotizzare cioè questa è soltanto un'ipotesi di quello che penso io può darsi anche che non è per niente così però almeno è quello che credo almeno abbiamo comunque oddio abbiamo comunque una motivazione per scappare da loro se è così come la penso io poi non ne ho idea comunque non so dove stiamo andando non so beh non so niente ok qui possiamo solo scendere guardate come cammina ma che è ok speriamo che ci sono solo questi tizi ipnotizzati non ci siano quei tizi che vogliono ucciderci vedete quello c'è ho visto un tizio comunque lì c'era un tizio poi non lo so ok vediamo allora di qua no ok non di qua perfetto sì ma se non ci arrivo cioè io questo posso fare posso solo salire cioè non posso fare altro se non ci arrivo raga io odio quando non capisco le cose aspetta aspetta eh infatti ok bene bene no io l'odio quando non capisco le cose mi viene un nervoso incredibile non potete ho paura che se qualcosa ci vede succede qualcosa forse è una cosa che non dovevamo azionare però ok cosa è successo oddio no 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 ok no si è tipo bloccato un attimo di pazia ok ah beh a questo punto non li aziono e vado avanti senza problemi vedete questi tizi sono morti perché l'hanno pre ah no però allora intanto noi facciamo questa cosa la apriamo almeno siamo abbiamo già metà delle cose fatte e non sprechiamo tempo e poi attiniamo queste cose e ok anche perché usare credo quella specie di ascensore dobbiamo per forza fare così ok 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 no mi erano un attimo preso non sapevo che cosa facesse quella roba mi sono messa un attimo paura ok dove arriviamo scusa ah ok bene ok li vedo i tizi signora mi scusi ok oddio 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 merda e ora perché ci guarda a noi dobbiamo stare attenti ok ok oddio raga che fegata oddio no col tizio col tizio è vero però si vedete vedete hanno la maschera vedete oddio no non voglio se queste cose ci dobbiamo ricordare quello che dobbiamo fare loro sono un po' sincronizzati e noi no leggermente oddio la smettete signori cioè siamo palesemente finti palesi come fanno non accorgersene oddio ma che è sto rumore tipo credo che questo sia il nostro cuore ma che è ma sono mostri hai capito che siamo palesi oddio mio no e si vabbè e non ci arrivo e dai però gne 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 come faccio mi spiegate cioè salto non importa e dai ma io ho saltato però eeeh ah ho capito ho capito cosa devo fare forse ah no ah no wiii felicità ah bene ok allora forse forse ho capito noi ci mettiamo qui e lui scende da la no ciao ahhh ahhh ok e adesso andiamo volando per le teste non lo so ok perfetto però è veramente una cosa bruttissima credo che questa è sicuramente la dovevamo cioè se no non era una cosa normale ah ok quindi io per andare via intanto mi riaggancio qui ok no perché se no infatti non poteva passare ok ha tutto molto senso sinceramente non so come ma ha tutto molto senso ok eeehm ah io tanto sto qui per sicurezza perchè è ah no 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 ho capito ho capito allora andare di qua eeeh questo tizio è ipnotizzato cioè è capito faccio così no 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 eh non capisco perché se si stacca lui cioè se mi stacco io si stacca anche lui è ok però cioè ah si ma vabbè ok è semplicemente da questa parte poi io mi riaggancio e lui intanto ah no scusa devo portare questi infatti me ne stavo dimenticando ok di qua sto dimenticando vabbè lui se ne va io rimango qua ok lei ci sono quietissimi se con la maschera credo ok e io non credo che mi devo lasciare così non in questo modo cioè lui doveva continuare cavolo oh forse forse allora lui va così ok e poi con quest'altro tizio io torno di là ah no niente non posso tornare di là perché mi servono comunque due persone credo no ok mi devo lasciare allora io mi metto qui proprio in modo che se cado lì sto mi faccio aprire tutto mi sta questo là sotto perfetto no 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 sali 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 ok bene anzi è tremende no no non qui ok allora per forza a meno che no niente a meno che niente di qua lo sai che c'è qualcosa eh sì credo no non c'è assolutamente niente mi posso prendere qualcosa in modo da poter salire cioè da farmi un po' da scala diciamo salta allora ragazzi comunque io direi che possiamo fermarci qua con questo secondo episodio di inside è veramente un gioco fantastico spero che voi vogliate che continui quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate mi piace commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti